Quando ero bambino non sapevo cosa avrei fatto da grande, ma sapevo con chiarezza che avrei voluto essere un uomo libero e capace di realizzare qualsiasi risultato. Il mio obiettivo è di spiegare agli uomini e alle donne di domani che possono fare altrettanto per migliorare il mondo in cui vivranno. Ultrattivi è sport, energia, rispetto, territorio e futuro. Sport perché nello sport esiste la sfida continua, l'ambizione di raggiungere obiettivi sempre più impegnativi. Rispetto perché al di sopra di tutto ci sono le persone che per noi contano più di qualsiasi vittoria o sconfitta. Futuro perché crediamo che i nostri figli e nipoti meritano che il mondo che lasciamo loro sia migliore di quello che i nostri genitori e zii hanno lasciato a noi. Territorio perché crediamo che chi è nato in una città di provincia abbia gli stessi diritti di chi è nato in una grande metropoli. Energia perché per vincere le sfide è necessaria tanta energia mentale positiva. Io scelgo il campus cresci bene. Io scelgo il campus cresci bene. Io scelgo il campus cresci in vita.